che sono molto volenterosi e sono pieni di capacità tecniche che vogliono esprimere e che si percepiscono direttamente sul set, questa è la cosa che mi ha più colpito e poi la grande ospitalità e la grande disponibilità anche delle autorità a farci lavorare nel migliore dei modi e l'ospitalità da parte di questo posto incredibile che è il Bunkart Museum che ci ha messo a disposizione un luogo che ritengo sia quasi unico al mondo insomma comunque poco visto Pensiamo che la prima, che il film sarà finito per maggio e potremmo pensare di fare una prima a giugno vediamo se farla nei due paesi o se capire come poter essere magari collegati immediatamente perché ci ha piaciuto molto l'esperienza in Albania e vorremmo...